è un piatto tra virgolettone povero però è un piatto che può andare davanti a una regina no perché è giusto una pizza margherita 50 pizzerie storiche animeranno la quinta edizione del napoli pizza village dal primo al 6 settembre sul lungomare caracciolo l'iniziativa presentata questa mattina a palazzo san giacomo è promossa dall'associazione pizzaiuoli napoletani col sostegno del comune di napoli e col patrocinio della provincia della regione e del ministero delle politiche agricole ogni giorno dalle 18 a mezzanotte musica e cabaret lezioni coi maestri pizzaiuoli e naturalmente degustazioni di pizza e birra e ci sono sei spettacoli si comincia il giorno 1 con la nuova compagnia di canto popolare poi ci sarà fabbio concato poi ci sarà la terza sera ci sarà gigi e ross con un gruppo di made in sud poi c'è maurizio casagrande poi ci sono io e poi si conclude con radio kiss kiss show centomila pizze sfornate e mezzo milione di visitatori nell'edizione 2014 nei primi due giorni della manifestazione 500 professionisti prenderanno parte al 14esimo campionato del mondo del pizzaiuolo alla presentazione non è mancato un momento di polemica nel mezzo della conferenza stampa intervenuto il consigliere del partito democratico fiola per contestare l'organizzazione dell'evento e l'applicazione della cosap fra gli organizzatori claudio sebillo ha sottolineato che in occasione del pizza village lo scorso anno si è registrato un incremento del 15 per cento dei turisti in città siamo alla quinta edizione di un avvenimento che caratteristica soprattutto per coinvolgimento popolare è diventato uno dei più grandi momenti di incontro popolare d'europa e questo è molto bello importante che accada intorno alla pizza che in tanti modi riassume tradizione identità della nostra città ma soprattutto è importante quest'anno in cui l'arte dei pizzaioli napoletani rappresenta l'italia per ottenere nel 2016 la dichiarazione di bene culturale immateriale dell'umanità da parte dell'unesco il programma completo delle iniziative su www.pizzavillage.it e su www.lezionidipizza.com vengono persone da tutte le parti quindi per noi è un vanto per noi artisti essere su quel palco ma per noi napoletani è un vanto che ci sia questa bellissima festa faccio parte delle cose belle di napoli per lo meno mi infilo dove c'è il bello io mi metto così poi alla fine tutti penseranno che sono bello pure io grazie